Stella Marina di oggi è Vittorio Sgarbi, Vittorio Sgarbi qui a Portorotondo per presentare un suo libro uscito lo scorso anno Lezioni private, ma ha parlato di un panorama abbastanza a piatto, piccoli nomi, piccoli personaggi eppure lui non ha perso la voglia di aggredire, quindi qualcosa da dire ancora c'è Io non appartengo a una categoria né definita né definitiva per cui quando parlo dei politici ne parlo come se io non fossi, come non sono, soltanto un politico e d'altra parte i miei comportamenti sono ancora abbastanza eccentrici e autonomi benché io sia rimasto completamente isolato, per cui sto in un'area configurata e dichiarata detta centrodestra ma le mie reazioni sono poi come sono sempre state autonome Bossi ha una vitalità e una capacità di inventare scenari anche fantastici che accende questa piatta condizione politica di cui parlavamo Però lei ha definito l'anno scorso Bossi una scimmia, la scimmia si è evoluta? Sì, ma quella è la valutazione che io davo e do tuttora del suo pensiero politico La caricatura che le facevo l'anno scorso oggi può essere corretta in una considerazione a forza di vederne le trovate più letteraria che altro cioè l'idea è che sia appunto un personaggio che crea degli effetti speciali e non soltanto sul piano della comunicazione ma sul piano proprio dello spettacolo, della letteratura in qualche modo Lei si sente libertario, garantista, oltranza, gamberale, pacciani, merola, cioè lei garantista per tutti? Perché sono convinto, i casi che lei dice, che siano tutti i casi di violenza della giustizia sui cittadini indipendentemente dal giudizio morale, uno può avere un giudizio morale durissimo su Pacciani e su quello che ha rappresentato al di là delle condanne che ha già scontato ma non per questo deve essere il mostro di Firenze, non è obbligatorio ve lo sia Grazie! Grazie! Grazie!